Ciao a tutti, bentornati sul canale di Trattoria Sportiva, io sono Mario e siamo qui a commentare l'ennesimo pareggio casalingo del Cosenza Questa volta possiamo dire probabilmente che è andata bene così, 1-1 col Modena al gol di Cotali al 22esimo, risponde Simone Mazzocchi in semi rovesciata all'ottantesimo Una partita che deve finire una discreta partita, cioè nel senso una buona partita per il livello della Serie B con orrori perché determinate cose successe oggi sono degli orrori che andremo ad analizzare oggi E altre, non dico di pregiovole fattura, ma che dimostrano che queste due squadre in questo campionato valgono la posizione che hanno magari in questo momento in classifica Due squadre che è da una parte il Modena che ha dei singoli importanti e dall'altra un Cosenza che di cuore riesce quantomeno a non perdere in casa e a continuare la striscia di risultati utili consecutivi Due parole prima di iniziare, sicuramente qualora non l'avessimo ripresa sarebbe stato un po' spartita diverso perché mi sarei concentrato maggiormente su chi è entrato e non ha dato il proprio apporto alla partita Con giocatori che in questo momento, che all'inizio dell'anno sembravano due... sapete già a chi mi riferisco senza fare i nomi Magari, se avete capito chi sono scrivetemelo nei commenti Due giocatori che all'inizio dell'anno sembravano quasi imprescindibili per questa squadra, no? Oggi sono entrati uno peggio dell'altro, cioè uno metteva cross in mezzo e sembrava che doveva fare il Venezia, nel senso che non alzava mai la testa per vedere se c'era qualcuno in area L'importante era buttare i palloni dentro L'altro che da ogni posizione possibile, che poi è successo una volta solo però, visto la porta ha detto ci provo e ovviamente l'ha tirata in curva Altri invece che hanno avuto meno minutaggio, che comunque un traversone in mezzo, un cross pulito l'hanno messo e il cosenza pareggiato Non ce l'ho con i singoli, sia chiaro, perché qui è una questione di gruppo e questa squadra lo sappiamo che non ha il killer instinct Cioè quello che ho sempre detto, perché determinate partite, anche oggi, in determinati momenti li potevi gestire in maniera diversa Magari senza il palo di strizzolo, probabilmente col gol di strizzolo, diciamo, prima del gol di Cotali staremmo parlando di un'altra partita Però potremmo dire la stessa cosa qualora De Frel non si fosse divorato uno dei due gol, cioè uno alla fine del primo tempo e uno all'inizio del secondo tempo Lì sarebbe cambiata totalmente la partita L'unica pecca che io trovo oggi è il ritorno dell'orrore, nel senso quello che io ho sempre odiato di questa squadra Cioè quello di cercare un fraseggio corto Che mentalmente magari loro pensano che il compagno è lì, quindi è un fraseggio corto che nell'idea ci sta Però se tu vedi che il compagno è a tre metri non puoi fare un passaggino di un metro Permettendo magari a un giocatore tecnico come Palumbo di venirti a scippare il pallone e lanciare il caso in contropiede Che oggi, per carità, Martino e Ricciardi lo hanno, tra virgolette, neutralizzato, diciamo così Però l'unico pallone buono che Beppe ha avuto, non ho capito perché è stato fischiato, va boh, magari per la prestazione più che altro L'unica volta in cui è riuscito a sgusciare via ha creato il panico Ha creato letteralmente il panico, quel pallone messo in mezzo con dapprima un buon lavoro di De Frel su quella spallata data a Dallemura Di pura esperienza, anche oggi Dallemura non è che mi sia piaciuto tantissimo, però magari ne parleremo dopo Ha permesso a Cotali di portare il Cosenza in vantaggio Sul Dallemura, ecco, non ne parlo ora Non dico che è stato proprio una partita da insufficienza, intendiamoci Perché sul gol il vero errore, secondo me, è quello di Ricciardi Che poi, diciamo, alla fine del primo tempo è stato sostituito assieme a Strizzolo Per fare entrare Ricciardi e per fare entrare Rizzopin e Ciervo Però, diciamo che ha sbagliato in alcuni momenti, poi c'era un fuorigioco, quindi in quel caso no Però ha sbagliato delle letture che... Non dico che non sono da lui, però mi fanno ricordare quel Dallemura di Mantova che poi era stato accantonato per un po' Vedremo a Pisa Vedremo a Pisa come si schiererà il mister, qualora dovesse recuperare Venturi Penso che partirà lui titolare, non so se assieme, appunto, a Dallemura e a Caporale Ma magari Dallemura si accomoderà in panchina per una giornata e magari proverà Venturi in mezzo Chi lo sa, lo vedremo nella prossima settimana Sua partita di oggi devo dire che il titolo probabilmente sarà bravi e fortunati Perché è un 1-1 Che se uno guarda le statistiche e non ha visto la partita diceva Bulko senza dominato, anche perché il Modena è stato in 10 Assolutamente no, perché dopo il palo di Strizzolo Loro hanno avuto, assieme al gol ovviamente, tre occasioni nette E prima dell'espulsione di De Freire ne hanno avuto un'altra Cioè, in De Freire che credo sia l'horror game della sua carriera, ripeto Perché sbagliare due gol, uno peggio dell'altro con Mikai che sul secondo fa un autentico Non dico miracolo però, non dico nemmeno che se l'è trovata lì Cioè, è riuscito a confonderlo un pochettino Poi anche l'entrata su Quan Li Quan, diciamo Ha detto, oh mi prende, oh mi prende E per fortuna l'ha preso Diciamo che dimostra il livello La fase, diciamo, calante della carriera di Gregor De Freire che io ho avuto per anni al fantacalcio E oggi l'ho visto calcare il campo del Marulla come con l'Oriente quest'anno e anche l'anno scorso in Coppa Italia Tornando a noi, partita, ripeto, che è stata scandita da determinati momenti Cioè, se dopo, se magari il palo di Strizzolo fosse entrato magari staremmo parlando di altro Magari se non l'avessimo pareggiata staremmo parlando di altro È sempre in base, è molto emotiva Soprattutto il post partita a caldo Alla fine della fiera porti un punto con dei continuità E va bene così Perché questa squadra, come ho detto, come ho sempre detto dall'inizio dell'anno Questa squadra manca il killer instinct La capacità di chiudere le partite Questa squadra va avanti, soprattutto dopo averla ripresa Oggi si è visto, è molto frenetica Voleva a tutti i costi riburtarsi a capofitto in avanti Nella speranza di trovare un barco per acciuffare la vittoria Però il Modena lì ha deciso di chiudersi ulteriormente al Riccio Lasciando Pedro Mendes subentrato letteralmente per tenere qualche pallone in avanti Ma Martino oggi, soprattutto in fase difensiva, Pietro non ha demeritato assolutamente Facendosi magari, rimediando magari a quello che era successo in casa con la Sianitana Per dire il rigore causato Però, tutto sommato, cioè, sono momenti della stagione Sono partite che, sono quelle classiche partite che Tu pensi, una delle due fa il salto che danno lo steppettino in più Come dicevo io col Brescia, no? Questo oggi, almeno per noi, non è successo Perché in città, nella provincia, questa partita magari veniva vista come Una partita che ti poteva dare il via per Però non ti ha dato il via per, ma ti ha dato il via Nel senso, l'hai ripresa col cuore, con l'orgoglio Eccetera, eccetera, eccetera Però non ti ha dato quell'ulteriore spinta per entrare in quel gruppetto lì Cioè, sei lì, cioè, proprio Però bisogna sempre aspettare le altre domani Eventualmente non chiudi Guardavo la classifica mentre tornavano Giusto per curiosità Anche perché col fatto che ci sono Non dico molti scontri diretti Ma molti scontri, diciamo, tra vertice e giù Bene o male Potresti non chiudere Nella zona Playout Ecco, su questa giornata Che è la cosa principale Perché magari una vittoria del Cittadella Magari a Bari O Credo che giochino sì Una vittoria del Cittadella a Bari Magari Ti porta ad avere pari punti Però comunque c'è il Modena dietro Cioè, insomma È in castri strani Buon punto, ripeto, che è da continuità Questa squadra avrebbe Sì, è brutto da dire Ma dobbiamo ripeterlo 19 punti sul campo Che ad oggi La porterebbero Con le altre che giocano al quinto posto E Invece te li trovi a metà classifica Ancora Nel limbo Limbo, limbo Che credo che ci porteremo avanti Quanto meno Fino alla fine Fino Alla fine del genere d'andata Però lì ti si tireranno le somme Per capire cosa è andato bene In questo genere d'andata Cosa è andato male Cosa si può migliorare Cosa Si deve assolutamente migliorare Eccetera, eccetera, eccetera Chi non vuole rimanere Come ha detto il direttore sportivo Può andare Perché quella è la porta Perché noi servono giocatori con fame E non Veneziani Che Non giocano per la squadra Ma Giocano Per se stessi In determinati momenti della partita Soprattutto critici Poi magari faceva il gol della domenica E questo pipotto Non l'avrei fatto Però Mi concedetemelo oggi Per il resto Buon punto Fortunati Ma Galleggi Prendi un punto Continui a dare A essere imbattuto in casa Alla fine della fiera Continua la striscia di imbattibilità Che comunque è una cosa buona E ora Vai in casa della capolista Bisogna vedere i risultati Di domani E poi Dire se vai a Pisa Con la mente Sgombra Io ho scritto un amico Perché è quello che questa squadra ha dimostrato Sembra che quasi con le squadre Di vertice Chiamole così O quelle che sono un tantino In più Forti di noi Sulla carta Ma anche più in classifica di noi Questa squadra riesce a fare Qualcosina in più Mentre Soffre molto Le partite con quelle Che attualmente Si trova dietro Considerando che dobbiamo giocare Ancora Sicuramente con Carrarese Frosinone Poi vabbè Sono tutte quante squadre Che abbiamo davanti E due E una E una delle due La giochiamo in casa E vado a giocarmi l'X Cioè Se questo è l'andazzo Veramente vado a giocarmi l'X No Scherzi a parte Non allungo più Dando il pippone Vi auguro Un buon fine settimana Prendiamoci questo punto Che alla fine della fiera Fa sempre morale Fa sempre classifica Che è la cosa principale E nulla Vi saluto Vando una buonanotte Visto che sono le Undici e mezza Che sto per ultimare questo video E Ci vediamo nei prossimi giorni Ciao a tutti